50 centesimi a prezzo delle patatine ciò pagano un biglietto, lo rimbassiamo sempre voi parlate e noi facciamo i fatti vieni, spettacolo di mano, caccia il spettacolo guarda, siamo una campionata a parte ma solleva a faccia e che te lo fai, belen, diletta alle 8 direttamente da Sky TG 24 diletta alle 8, guarda qua, tosta tosta come il cosci mia sorella, guarda guarda, sto pesce spadale, locale, vivo prendi gli occhi, guarda, c'è misellandino pesce spadale, locale 13,99 a chi, mamma mia aspetta, guarda questo bagno, super bagno stamattina ma io dirimo pesce per tutto l'Italia asti, ci sembra tutte vive 18,99 a chi, dire, sempre 18,99 granchi brutto era il 99 guarda che spettacolo, pezzogna locale vive, solo per oggi, 10 euro a chi 9,99, guardate mare solo mare, prendi il prezzo 15,99 a chi, ma diù mare, ma mare originale salvatiche, 12 euro a chi forse ancora più, guarda qua, ancora la video colore, spettacolo c'è facciamoci questa pagina fino alla parte guarda qua, dire, guarda qua stai a stampare per gli appicciare pensi una picciarella, dire ah no, è lo scarronino signora, dire, a stampare per la picciarella andi a appicciare i pensi io, guarda guarda che spettacolo c'è, che bagno sempre tutto, super forniti guarda che spettacolo del mare mamma mia, guarda qua, non sa, guarda qua cazzo fornisce, ma non abbiamo paura tieni, non ci fermiamo più ma lì c'è il 50 centesimo kg, poi tutto qua 0,50, cozza 2,50 kg paranza 2,99 ma è l'uomo, se stessi, guarda qua c'è, guarda qua, ripetendo vicino calcio al spettacolo, guarda che spettacolo 3,50 euro a chi, per russolini 3,50, cannelli, rubini, 3 euro a chi 2,99, guarda qua questa è buona indo, guarda qua cannelli 2,99 non mi vuole rire che ce la fa cannelli 2,99 bongo le 8,99 kg qualche rossi, sempre con il coltello 3,99 aglio calcio al spettacolo per i miei brutti mali, tutti i sprechi salmone, 10 euro a taglio 7,99 in dentro cosci vocali, riprendi a frischezza, a faccia di al vivo, 2,99 pesce a spada 10 euro guarda che spiglio, 5,99 cefali, guarda che cazzo che c'è una macchia quello con la macchia, 2,99 kg polipetti, caramante sti cammarò, non sono bello bello, bello, 9,99 kg 9,99 kg 5,99 kg 3,99 grandissime vive 7,99 kg adesso si pronuncia quanto sono? ogni pronuncia è un chilometro chi? è un chilometro, dì chilometro, mazzangoli 7,99 kg pescatrice 10 euro la pananza rosso, dì la grande 6,99 kg camperoni 10 euro polipetti pelaci 10 euro orate grandi guarda che sti cammarò, guarda su quello caccio spettacolo in sciarfero Napoli, scarpi 6,99 guarda che spiega le 10 euro guarda che sti cammarò stamattina perchè stamattina c'è una roba bella guarda che sti cammarò nel locale sti cammarò nel locale vivi riprendi 6,99 a chi? ma devo andare a sti cammarò guarda che sti cammarò guarda che sti cammarò viva, dì solo amo merluzzi solo amo riprendi caccio spettacolo sono bello a due minuti dendici 10 euro a chi? un primo, 6,99 gambe rinossi 12 euro calamari veraci guarda che sti cammarò 13 euro a chi? seppia vive? vive? vive ancora saliamo sopra vieni con me polpi locali grandi per tutti quanti vieni con me caccio spettacolo siamo un campionato a parte vieni ancora con l'amo in bocca vieni, vieni sopra sali con me sali vieni c'è calamaretti sempre locale vieni, vivi, vivi vivi grandi e più piccoli prendi gli occhi spettacolo vivo, riccio dai locali con i pietti veraci migliori vieni, sali sopra i bocconcini locali non lo direi nemmeno scampi locali grandi guarda qua solo amo solo guarda qua mamma mia caccio spettacolo stamattina caccio spettacolo i farfalle e belen triglia di scoglie originali guarda qua la formula 1 caccio di luoghi caccio di luoghi pezzogna locale cernia bruna locale guarda viva, viva spigola i tendici ma adesso i tendici locali caccio non fai sali sopra senza far rumore andate di mare melluzzi locale mazza voi ma io ma ti rimanano cosa fa faccio portare ma tutti ma i petti mignoli ma te fai eh ho curato la dinti vieni anche niente dimentico ho